Noi due non ci parliamo Noi due non ci vediamo 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 Settimana intensa e ad alto contenuto di solidarietà per il Calcit e il suo Calcit in scena, una maratona benefica che per tutta la settimana è stata protagonista ad Arezzo Fiere, dove domenica ci sarà la grande conclusione con il mercatino dei ragazzi. Cene, eventi, spettacoli ad offerta ricco il calendario di iniziative protagonista di tutta la settimana organizzate dagli Amici del Calcit di Via Fiorentina presenti da Simo Piantini. Senza dimenticare anche eventi collaterali come l'esposizione di auto dei carabinieri di Mino Faralli, oltre alle rare macchine da cucire del collezionista Guido Agnelli di Monte Senza Vino.